E dopo la lettura del Magico Potere del Riordino di Marie Kondo comincia una nuova serie da giovedì dove inizierò a fare declarating per tutta la casa per come consiglia Marie Kondo dividendo le cose per categorie e cominceremo proprio dai vestiti che è la prima categoria consigliata nel libro. Non perdetevi questo video giovedì alle 14. Un grosso bacio!